PIF Inter, ci sono nuove indiscrizioni che infiammano i tifosi in queste ore, c'è però anche un'intervista molto importante all'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta che risponde in parte in queste voci e cercheremo di identificare, di capire che cosa vuole dire Beppe Marotta con queste sue dichiarazioni. Poi ci sono anche alcune notizie sullo stadio ma non solo, amiche e amici interisti ben ritrovati, rieccoci con uno dei format che ci chiedete di più e quindi vi accontento subito andando a sintetizzare in questo episodio le principali notizie del momento. Non prima però vi condivido lo schermo di ricordarvi che nelle scorse ore abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube e dovete assolutamente recuperarla una lunga intervista che abbiamo realizzato nei giorni scorsi con Massimo Cioci, ex attaccante dell'Inter, ha lavorato con l'Inter in giro per il mondo, ha collaborato poi anche in Cina con il Jiangsu Suni, quindi abbiamo lanciato questo nuovo format con un'intervista dal vivo e fateci sapere poi innanzitutto se l'avete vista, se vi è piaciuto. Altrimenti mi raccomando cercate di recuperarla così cercheremo di farne altre nei prossimi giorni, nelle prossime settimane di raccontarvi anche altre storie. Mi raccomando quindi non perdetevi questa intervista sul nostro canale YouTube. Detto questo direi che possiamo partire subito con le notizie e direi di partire da qui, da questo editoriale che arriva dal sito di Tutto Mercato Web, un editoriale del giornalista Enzo Bucchioni che immagino conoscerete. Non credo sia al momento la fonte più attendibile, più affidabile su questo tema, però ne parliamo, ci facciamo due ragionamenti sopra perché inevitabilmente anche questo articolo che è sulla scia di quanto sta circolando ormai da qualche settimana inevitabilmente getta ulteriore benzina sul fuoco delle varie voci su PIF, sul futuro di Suning e dell'Inter. Vi riassumo che cosa è scritto in questo articolo, lo trovate sintetizzato anche su passioninter.com, sostanzialmente all'interno di questo editoriale Bucchioni scrive, sottolinea come lo Sheikobin Salman e quindi il fondo PIF dopo l'acquisto del Newcastle continuano a volere anche l'Inter, quindi l'acquisto del club inglese non chiude le porte all'idea di rilevare anche l'Inter e anzi, secondo non meglio specificate fonti da ambienti finanziari, la trattativa sarebbe andata ulteriormente avanti anche negli ultimi giorni e quindi ci sarebbe anche una sorta di bozza d'accordo attorno ad un miliardo di euro per l'Inter. L'obiettivo sarebbe quello di chiudere entro la fine di questo anno solare, quindi nel giro di due mesi, anzi meno di due mesi perché prima della fine del 2021, questo perché secondo lo stesso Bucchioni, quello che scrive all'interno di questo articolo, Suning non può più mantenere l'Inter soprattutto con l'arrivo di queste rate del finanziamento di Oktri nei prossimi mesi. L'idea del fondo PIF sarebbe quella di avere ovviamente innanzitutto un ritorno economico ma anche di immagine soprattutto importante con l'acquisto dell'Inter, ma anche quello di creare una sinergia poi a livello sportivo e internazionale con il Newcastle e l'Inghilterra per arrivare poi anche ad organizzare i mondiali del 2030. Questi sarebbero alcuni degli obiettivi che il fondo PIF si sarebbe prefissato con il loro sbarco nel calcio. Bucchioni poi dice anche che se non ci fossero basi concrete in queste trattative e in queste voci, l'Inter avrebbe già smentito e adesso vediamo perché leggiamo anche le parole di Marotta. Questo in sintesi è quello di cui parla l'articolo di oggi che quindi inevitabilmente aggiunge ulteriore carne al fuoco. Vi segnalo però nel frattempo da Twitter il giornalista Ben Jacobs, un giornalista che sta seguendo da vicino la vicenda e che molto spesso parla di questo tema sui suoi account social. Su Twitter sostanzialmente dice che non ci sono aggiornamenti al momento da quello che gli risulta e che il fondo PIF ora è in questa fase, nell'immediato totalmente concentrato sul Newcastle, mentre nelle discussioni tra Suning e PIF per l'Inter al momento rimangono degli ostacoli ed in particolare il tema stadio, il nuovo stadio di Milano che è chiaramente un tema decisivo sia per Suning che per l'eventuale nuovo acquirente. Quindi questo è un ulteriore aggiornamento. Per quanto riguarda il tema stadio e a proposito di tema stadio, ho parlato, ci sono nuove dichiarazioni arrivate proprio in queste ore, il neoassessore all'ambiente di Milano Elena Grandi che ha parlato a Fanpage, vi condivido anche qui l'intervista dal sito di Fanpage, la trovate lì in maniera integrale e sul tema dice, secondo me è presto per dirlo perché bisogna capire come si sviluppano le trattative con le squadre che il sindaco incontrerà prossimamente. Noi non sappiamo, attenzione a questo passaggio, quanto Inter e Milan siano in grado di spingersi e se il loro progetto sia sostenibile economicamente anche per loro. Quindi l'assessore dice, non sappiamo se Inter e Milan hanno i soldi per fare questo tipo di operazione. Ovviamente sappiamo che ci sono progetti di ristrutturazione di San Siro che possono essere recuperati e integrati. Noi pensiamo che un intervento di questo tipo sia eccessivo in quel quartiere che può essere valorizzato diversamente dalla costruzione di centri commerciali e quindi questa è un po' una delle varie anime che fanno parte del Consiglio Comunale che sembra abbastanza contraria al progetto ma che dice, non sappiamo quanto Inter e Milan siano economicamente sostenibili, non possono permettersi di stare, non so quale sia la loro situazione finanziaria, so che non c'è una situazione esattamente trasparente sulle condizioni economiche delle squadre. Dichiarazioni abbastanza forti, abbastanza importanti, io banalmente su questo tema vado rapidamente perché in realtà le garanzie dal punto di vista economico non penso ci saranno problemi per i due club a trovare finanziatori per un progetto di questo tipo, tra l'altro credo che verrà costituita una società unica nella quale confluiranno i due club per poter dedicarsi a questo progetto, diciamo quindi non penso che ci saranno questi problemi per trovare le adeguate garanzie alla costruzione dell'impianto, restiamo comunque alla cronaca e alle notizie, la prossima settimana comunque è atteso questo incontro tra il sindaco di Milano e Inter e Milan e ne sapremo sicuramente di più. Arriviamo però a questa intervista che è il tema centrale di giornata secondo me l'intervista all'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, la versione integrale la trovate sul Corriere della Sera sul nostro sito passionointer.com trovate invece i passaggi principali, io legandomi al tema PIF parto da una frase importante di Marotta su questo tema e che interpreto almeno personalmente come una possibile smentita andiamo a recuperarla dal nostro sito, partiamo da qui, gli viene chiesto lei a D dell'Inter è preoccupato per la situazione finanziaria del club la nostra condizione, dice Marotta, è alla pari degli altri club e stiamo pagando regolarmente gli stipendi anche gli ultimi di settembre, la contrazione finanziaria è legata ai mancati introiti da Covid il nostro azionista in cinque anni ha messo un miliardo di euro, eticamente non è sostenibile poi viene chiesto anche, la famiglia Zhang cerca finanziamenti o acquirenti per l'Inter? quali progetti? questa è una domanda molto diretta e a questa domanda così diretta Marotta dice, risponde siamo usciti dal tunnel, c'è stabilità, la cassa dà tranquillità Zhang ha passione, il presidente ha ribadito più volte il proprio impegno a lungo termine nell'Inter e quindi questa è una dichiarazione molto importante, c'è stabilità, siamo usciti dal tunnel il presidente Zhang ha ribadito più volte il proprio impegno a lungo termine nell'Inter c'è poi anche un passaggio finale dove gli viene chiesto del suo futuro visto che già nei giorni scorsi Marotta aveva parlato di un futuro che l'Inter sarebbe stata la sua ultima squadra, il suo ultimo club e dice il futuro di Marotta qual è? aspettiamo che torni Zhang atteso per fine novembre, inizio dicembre credo si possa continuare assieme, anche qui vedete parla di continuare assieme dopo l'esperienza di Inter cercherò qualcos'altro fuori dai club quindi non so voi, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate come interpretate queste parole è ovvio che se anche fosse tutto fatto con Piff eccetera pubblicamente non potrebbe dirlo ed è vero che Marotta sappiamo è un maestro in questo aveva smentito anche Ericsson e poi dopo di fatto 24 ore era già in Italia però io anche qui continuo a vedere degli ispiragli di futuro insieme anche quando dice aspettiamo che torni Zhang e ci sono possibilità di continuare assieme non lo so, io per il momento queste dichiarazioni di Marotta le interpreto ancora come una smentita a queste voci in ogni caso siamo vicinissimi ad un primo momento di svolta decisivo quindi tra l'incontro per lo stadio, l'arrivo di Zhang tra circa un mese a Milano e alcune scadenze molto importanti che ci faranno capire nel giro di un mese appunto che cosa accadrà all'Inter, a Suning e a tutto questo discorso relativo a Piff poi nel resto dell'intervista Marotta ha toccato altri temi importanti ha parlato di una situazione del calcio italiano veramente molto difficile una situazione dove comunque la strada per i club sarà o l'autofinanziamento o l'aumento di capitale da parte dei soci ma non credo che i soci dei vari club saranno disposti ad iniettare di continuo soldi nei vari club e per il momento sottolineo lo stesso Marotta ma è abbastanza evidente la Serie A rimane un calcio di passaggio per diversi calciatori quindi bisognerà iniziare anche a valorizzare i calciatori e andare a pescarli prima di comprare campioni affermati allora anche in questo senso mi aspetto una strategia di mercato rinnovata da parte anche dell'Inter a partire già dalla prossima estate dove magari non si andrà a puntare con tutto il rispetto sul celanogo della situazione per il quale comunque continuo a predicare calma o soprattutto sugli insigni o su altri profili di questo genere vediamo c'è un passaggio sui rinnovi interessante ve lo recupero e ve lo leggo perché ha parlato di Lautaro e non solo eccoci qua per Barella e Lautaro si va verso una gratificazione a un prolungamento del contratto siamo vicini Brozovic invece è in scadenza servirà un po' più tempo ma ho fiducia e quindi attenzione la prossima settimana potrebbe esserci questo incontro anche con la gente di Brozovic però da come parla Marotta sembra un rinnovo un po' più spinoso rispetto a quello di Lautaro e Barella anche perché lo stesso Brozovic è più vicino alla scadenza e ha delle proposte rilevanti parla anche di mercato ci sono due passaggi interessanti che vi sottolineo se arrivano offerte per i migliori che farà l'Inter la volontà del giocatore è determinante come manager non sono preoccupato del vendere ma del comprare bene nessun club in Italia può garantire un grande stipendio ad un calciatore e quindi si parla del famoso player trading acquistare, valorizzare, vendere e poi andare a reinvestire bene come è stato fatto per esempio la scorsa estate visto che poi Marotta fa anche l'esempio di Lukaku sostituito con Dzeko che sta rendendo comunque molto bene come si potrà muovere l'Inter sul mercato? non sono consentiti investimenti rilevanti oggi Lukaku ha 75 milioni non potrei comprarlo ma non ci possiamo accontentare servono investimenti mirati e contenuti queste le parole di Marotta e a proposito di mercato andiamo in chiusura in queste ore poi sono tornate a circolare voci sul giovane talento Lucca che sta facendo molto bene in Serie B che però costerebbe già circa 10 milioni di euro mi sembra sinceramente un investimento difficile soprattutto per la sessione di gennaio vista la condizione attuale dell'Inter mentre tornano a circolare voci su Belotti di cui abbiamo parlato anche ieri Belotti ha sicuramente un profilo che interessa all'Inter però probabilmente più a parametro zero a fine anno e alle giuste condizioni piuttosto che come acquisto di metà stagione dove vedremo quelle che saranno le priorità che andrà a concordare mister Simoninzaghi con la dirigenza dell'Inter ultimo flash verso Inter-Juventus da piano gentile si sta lavorando per preparare la partita c'è soprattutto un ballottaggio in questo momento che riguarda la casella di centrocampo sul centro-sinistra diciamo così dove Cialanoglu sta rientrando dovrebbe essere al meglio ma potrebbe andare in panchina sembra al momento che Arturo Vidal parta in vantaggio per la titolarità in quel ruolo ma si sta accendendo anche un ballottaggio con Mattias Vecino quindi questo è il dubbio principale in casa Inter e vi terremo aggiornati con gli sviluppi delle prossime ore fatemi sapere chi schierereste voi quindi a centrocampo contro la Juventus tra le varie opzioni che ci sono sul tavolo e fatemi sapere anche come interpretate quindi le dichiarazioni di Beppe Marotta mi raccomando aspetto i vostri commenti vi ricordo di recuperare sul nostro canale YouTube l'intervista a Massimo Ciocci mi raccomando abbiamo parlato anche di Suning come detto oltre che dei suoi ricordi all'Inter quindi un lavoro a cui teniamo molto aspetto i vostri commenti anche sotto all'intervista se mi avete seguito fino a qui mi raccomando fatemelo sapere mettendo nei commenti una bella emoji facciamo come al solito il pollice alzato quindi mi confermate fateci un salto e lasciate l'emoji e poi ci vediamo nel club e poi ci vediamo nel club e poi ci vediamo nel club